segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te inizia flash che è ora proprio che è questa mosca la duma valuta il ritiro di mosca da l'organizzazione mondiale della sanità e da wto e da organizzazione mondiale del commercio si uno potrebbe dire siccome mosca di fatto sta sta venendo discusso il suo ruolo in molti di organismi internazionali ad esempio c'è tutto un dilemma se accettare o no la presenza di mosca nel g20 foro dei 20 paesi più industrializzati l'ultima volta vi ricorderete i ministri si sono alzati ci sarà il summit molti dei paesi di questa area grigia che appoggia ma non appoggia mosca vuole che in realtà mosca sia seduta a quel tavolo l'indonesia che presiede il g20 la cina naturalmente ma c'è insomma un problema di istituzioni internazionali e se mosca decidesse di ritirarsi in anticipo dopo essere stata espulsa da altri organismi internazionali tipo consiglio d'europa si creerebbe di fatto un sistema frammentato uno degli effetti sicuri di questa guerra è che il vecchio sistema internazionale quello in cui siamo vissuti bene o male dal 45 in poi non solo dopo la fine della guerra fredda ma dal 45 in poi con tutte le sue varie istituzioni viene rotto e si avrà un sistema frammentato in cui le democrazie costruiranno delle istituzioni solo per loro per esempio c'è un dibattito americano molto interessante alan friedman ne saprà più di me lanciato dal segretario al tesoro da janet yellen secondo cui la globalizzazione avverrà solo fra amici la friendly globalization solo fra le democrazie si escludono nelle in questi organismi multinazionali o nel proprio nel commercio insomma tutti i fatti che riguarda la globalizzazione tutti i paesi che insomma per dirlo meglio se mosca è all'indice come in questo momento è siccome vecchio sistema internazionale è stato il sistema internazionale dei vincitori della seconda guerra mondiale fra cui la russia non funziona più consiglio di sicurezza delle nazioni unite ad esempio non può funzionare per definizione in più mosca è stata esclusa da una serie di organismi e in più adesso dice che si ritira da altri per cui cosa abbiamo come il risultato di questa guerra in ucraina una frammentazione del vecchio ordine internazionale e il bisogno di ricrearlo ora gli americani sostengono con janet yellen che bisogna andare verso una globalizzazione fra amici un mercato comune delle democrazie e vediamo la partita del gas ha anche questo risvolto l'integrazione energetica fra l'europa e gli stati uniti attraverso la questione del gas liquido liquefatto che viene portato dalle 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 navi americane al posto del gas di mosca ecco tutta questa dinamica che frammenta il vecchio ordine e ne crea in teoria uno nuovo e il grande interrogativo in realtà è dove sarà la cina perché la cina ha grandi interessi economici con noi e ma tende ad essere schiacciata in senso ideologico e politico sulla russia quindi ci sarà un ordine delle autocrazie e un ordine delle democrazie o la cosa sarà più complicata sarà più complicata ma la frammentazione c'è e quante cose dietro un flash di agenzia dentro un flash d'agenzia un tema molto no è per dire un tema molto importante e arriviamo poi anche